In vita io ti credo, dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo, non ci sono i vinciti. Un vulcano, un mostro sacro della canzone italiana, Fausto Leale ha incantato il pubblico che ieri sera ha affollato la piazza della Rotonda Carducci a Tortoreto. Vecchie e nuove generazioni abbracciate per l'esibizione di uno dei massimi artisti italiani. Oltre due ore di concerto, voluto dall'amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti in onore dell'assunta. Canzoni di grandissimo successo, in oltre 60 anni di carriera, ripercorsi sul palco entusiasmando il suo pubblico, quel pubblico che è l'infa vitale per un artista del suo calibro. Come si fa a restare sulla Cresta dell'Onda? Sulla Cresta dell'Onda, perché sono un surfista. Ti è piaciuto almeno? Sì, sì, assolutamente. Parliamo invece del pubblico, quali sono le emozioni che regala appunto il pubblico a Fausto Leale e quali sono invece le emozioni che Fausto Leale regala al pubblico? Purtroppo è il fatto che questo lavoro mi piace tanto perché ogni sera succede quello che vedi qua intorno, quindi come faccio a smettere? Smetterò, ma per adesso sono un ragazzino, ci vuole ancora un po' di tempo. Fausto Leale ha raccontato spezzoni della sua vita personale, del rapporto con la famiglia che è stata anche fonte di ispirazione e di canzoni di successo, come ad esempio Deborah, dedicata alla primogenita. La mia primogenita si chiama Deborah, che ha avuto una grande fortuna e una grande privilegia giuda di avere come padrino Wilson Pickett. La mia primogenita si chiama Deborah, che ha avuto un po' di tempo.